Musica Buonasera ancora da Milano Pavia News, questa è l'edizione Pavia, vediamo i titoli. Musica Il comune di Casorate lancia il progetto per costruire due tangenziali a nord e sud del paese, c'è già un pieno di finanziamento per il primo tratto e si parla anche di ZTL in piazza Contardi. Non è ancora stato assegnato l'appalto per la gestione del verde pubblico ad ASM e il comune di Pavia continua con lavori provvisori. Il PD protesta senza programmazione e vince l'incuria. E' atteso per l'inizio della settimana prossima, l'arrivo a Vigevano dei carabinieri del RIS di Parma, dovranno fare dei rilievi nella casa dove tutto fa pensare sia stato ucciso Filippo Incarbone, l'autotrasportatore di cui non si avevano più notizie dai primi. Di gennaio facciamo il punto sulle indagini con il primo servizio. Da mesi era completamente in balia del suo futuro assassino, al punto da diventarne succube, quasi schiavo, acconsentendo a fargli le pulizie in casa e persino ad autodenunciarsi, spacciandosi per il conducente dell'auto con cui lui, la Guzzino, aveva provocato un incidente. Il giorno dopo, la scoperta della tragica fine accaduta alla vigilia dell'Epifania, il camionista 49enne Filippo Incarbone, ammazzato a martellate e buttato nel Ticino, nella zona del ramo delle streghe, emerge la triste fotografia della vita di un uomo buono e benvoluto, finito in una maledetta spirale autodistruttiva, fatta di povertà, droga, ricatti e disperazione, colminata poi con una morte terribile. Una morte violenta, di cui, dopo oltre un mese dalla sua scomparsa, sono accusati due uomini, entrambi pregiudicati, Michael Mangano, 31 anni, che sarebbe il vero e proprio assassino, e un presunto complice, Gianluca Iacullo, 44 anni, che lo avrebbe aiutato a sbarazzarsi del cadavere. La prossima settimana, nell'abitazione di Via Buccella, Vigevano, dove Mangano avrebbe finito in carbone con una mazzetta, al termine di una lite per un debito di droga non saldato, arriveranno i carabinieri del RIS di Parma, oltre che su due auto sequestrate, cercheranno le tracce di questo efferato omicidio anche qui, nel luogo dove sarebbe stato commesso. Anche se, già oggi, oltre alla confessione con cui Iacullo ha spiegato di aver assistito alla morte del camionista leccese, e di aver solo aiutato a farlo sparire, c'è un altro elemento che sembrerebbe inchiodare Mangano alle sue responsabilità, il racconto di un testimone che, la sera del delitto, ha detto di aver visto i due trascinare il corpo di un uomo su una macchina. Quello stesso corpo esanime che, ad oggi, nonostante le ricerche incessanti dei vigili del fuoco, con sommozzatori, elicotteri e droni, non è ancora stato trovato. Mangano e Iacullo sono in carcere a Pavia, in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Sono entrambi accusati di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Mangano anche di spaccio di droga, rapina e distorsione. C'è un particolare in questa vicenda che fino ad ora è stato poco approfondito, ma che presenta delle particolari coincidenze temporali. Stiamo parlando della scomparsa dell'auto di Filippo Incarbone, che verrebbe fatta risalire più o meno al mese di novembre, ed è lo stesso periodo in cui Incarbone si prese la colpa per degli incidenti stradali che invece erano stati, a quanto pare, causati dalla persona che è stata arrestata per il suo omicidio. Prima di lui spari la sua auto. Nelle tristi tappe del percorso che ha portato Filippo Incarbone verso un tragico destino, c'è anche la vicenda della sua automobile, una Renault bianca che utilizzava giornalmente per andare al lavoro o sbrigare le sue commissioni. A un certo punto quest'auto non si vide più in giro percorso Genova. Se ne accorsero vicini di casa, vedendo tornare Filippo dal supermercato affannato con le borse della spesa. Alla domanda su perché fosse andato a fare la spesa a piedi, l'autotrasportatore avrebbe risposto che la sua macchina si era rotta e l'aveva portata dal meccanico. Passavano le settimane però e Filippo era sempre a piedi e nonostante continuasse a raccontare la storia della carrozzeria, chi stava cercando di aiutarlo aveva capito che quell'automobile era stata inghiottita da quel buio che purtroppo stava pian piano inghiottendo anche lui. Quell'auto non è stata più vista. L'episodio sarebbe avvenuto in autunno e sarebbe da comprendere se la vettura sia stata magari ceduta impegno per pagare qualche debito o se invece possa centrare qualcos'altro, come ad esempio la vicenda dell'incidente stradale in cui Filippo e Carbone si sarebbe preso la colpa al posto di quello che sarebbe poi diventato il suo assassino. Gli incidenti anzi sarebbero stati addirittura tre tutti nel mese di novembre, periodo in cui sarebbe da far risalire anche la scomparsa della Reno Bianca. Di certo la persona finita in carcere con l'accusa di aver ucciso in carbone, Michael Mangano, è uno di quelli che non scherzano. Descritto come una persona particolarmente violenta, non esitava a quanto pare a minacciare di morte chi gli dicesse di no. Dopo aver isolato la sua posizione fra tutti quelli che frequentavano la vittima, i carabinieri della compagnia di Vigevano avevano capito che Mangano teneva sotto scacco diverse persone. In particolare all'inizio di questa settimana, tra il 9 e il 10 febbraio, gli investigatori hanno avuto modo di acquisire una serie di testimonianze ed imprenditori della zona, anche piuttosto conosciuti, che dichiaravano di essere taglieggiati e minacciati da Michael Mangano, raccontando di essere terrorizzati dalle sue continue minacce. Per un episodio in particolare, i carabinieri hanno raccolto elementi non solo a carico di Mangano, ma anche di un'altra persona, un 35enne Vigevanese. I accertamenti continuano in attesa dell'arrivo dei RIS per le analisi nella casa dove sarebbe avvenuto l'omicidio. Gli aggiornamenti sull'andamento della pandemia. Vediamo il bollettino di oggi di Regione Lombardia che ci racconta di 2.500 nuovi casi diagnosticati, pari al 6,5% dei tamponi effettuati. Sono dati molto alti, dati però, che abbiamo già visto praticamente identici, una settimana fa, era venerdì anche la scorsa settimana quando c'era stato questo improvviso balzo del numero dei contagi. Vedete che sono 159 le nuove diagnosi in provincia di Pavia. I dati sui ricoverati si mantengono sostanzialmente nella stabilità. Oggi c'è un aumento per i reparti ordinari e una diminuzione per le terapie intensive. Comunque, dati in linea con quelli dei giorni scorsi, purtroppo dobbiamo ancora contare 47 morti per Covid in Lombardia. Per quanto riguarda le vaccinazioni, abbiamo ormai raggiunto quasi quota 490.000 dosi somministrate. Stiamo vedendo come aumenti anche la percentuale sulle quantità di dosi consegnate. Nei giorni scorsi sono state contabilizzate anche le dosi arrivate da AstraZeneca. E proprio in queste ore è partita anche la somministrazione al personale scolastico e alle forze dell'ordine delle dosi di AstraZeneca. Anche in regione Lombardia, tutto in attesa della fase successiva, della fase 2, che coinvolgerà gli over 80, per cui dalla prossima settimana dovrebbero partire le prenotazioni, anche se i medici di medicina generale hanno spiegato di non essere ancora pronti. Ricordiamo che la Lombardia è stata decretata in zona gialla anche per la prossima settimana. La cronaca giudiziaria, una brutta vicenda di abusi su una bambina, vede alla sbarra in tribunale a Pavia addirittura sua madre. 8 anni e 6 mesi di carcere è la richiesta dell'accusa nei confronti di una donna italiana di 58 anni, finita a processo a Pavia con l'accusa di violenza sessuale nei confronti della figlia. I fatti risalgono al periodo tra il 2003 e il 2012 in un comune dell'Oltrepo, secondo le indagini che hanno permesso di scoprire il caso. La piccola avrebbe subito abusi da quando aveva appena 4 anni, la madre l'avrebbe toccata nelle parti intime in più occasioni quando si trovavano da solo in casa e la bimba avrebbe poi subito altre violenze anche da parte di un vicino e del fratello di quest'ultimo. La vittima si era poi confidata con un'amica e con la nuova compagna del padre. Dopo la denuncia, il vicino di casa aveva scelto il rito abbreviato ed era stato condannato a 5 anni di carcere, mentre il fratello aveva patteggiato 2 anni di reclusione. La madre aveva affrontato invece il processo con rito ordinario. Alla donna vengono contestati nel capo di imputazione episodi limitati e specifici in cui avrebbe partecipato ad alcune violenze. Come detto, per la 58enne l'accusa ha chiesto una pena di 8 anni e 6 mesi di carcere. La figlia della donna, ora maggiorenne, si è costituita parte civile nel processo e ha chiesto un risarcimento di 200 mila euro. Ci occupiamo ora di un progetto che potrebbe davvero rivoluzionare la viabilità di Casorate Primo. Un progetto che comprende due tangenziali e anche la possibilità di una zona traffico limitato per lo meno per alcuni periodi in piazza Contardi. Vi vediamo. Due nuove tangenziali per deviare il traffico pesante fuori città ed arrivare a creare una zona traffico limitato in centro. È l'ambizioso progetto a cui sta lavorando il comune di Casorate Primo che nelle scorse settimane ha chiesto a una società di realizzare il piano urbano del traffico. Abbiamo dato mandato a una società specializzata per realizzare il piano urbano del traffico che è un documento che verrà poi legato al piano di governo del territorio. Siamo già nella fase 2 quindi che sarebbe la ricognizione dei luoghi, l'individuazione dei problemi, poi la fase 3, la risoluzione dei problemi. La fase 2 è completata, a breve ci presenteranno quali sono i problemi che hanno rilevato dopodiché ci metteranno in campo la risoluzione. Questo ci consentirà di partire poi con le opere strategiche che sono le due circonvalazioni, sia quella a sud del paese che a nord del paese. Il comune sta ora cercando di capire come reperire i fondi per le due tangenziali. Il tratto nord del progetto dovrebbe venire realizzato grazie alle opere a scomputo, previste in un piano di lottizzazione per il tratto sud. L'investimento dovrebbe invece aggirarsi su un milione e mezzo di euro. Sì, per quanto riguarda la spesa abbiamo già individuato anche gli operatori che realizzeranno la tangenziale nord perché è su un'opera scomputo di un piano di lottizzazione che verrà a breve presentato in comune. Mentre invece per la tangenziale sud, che è un'opera più grande, costerà circa un milione e mezzo di euro, però partiremo con il piano particolare d'esproprio e l'acquisizione delle aree. Dopodiché cercheremo le risorse attraverso i piani di lottizzazione che costeggiano la tangenziale per realizzare l'opera effettiva. Ovviamente si tratta, come dicevamo, di progetti importanti perché è una zona di forte passaggio, è a collegamento con il milanese, quindi credo che anche questo sia un progetto per cui l'amministrazione insomma lavora molto proprio per cercare di dare un po' più di agio anche ai cittadini, ai pendolari. Sì, sì, è stato uno, anzi diciamo, il principale obiettivo strategico che abbiamo inserito nel piano governo del territorio che abbiamo realizzato nel 2014. Queste opere consentiranno di svincolare il centro cittadino da tutto il traffico che è solo di passaggio e che è sostenuto perché le direttrici Milano e Pavia sono sostenute e questo darà anche agio a tanti cittadini che ci hanno chiesto queste opere per evitare che davanti alla loro casa si formino ingorghi, strade, passaggi, camion, pulmoni, eccetera, eccetera. Quindi è di molto interesse per loro. E questo consentirà anche di creare alla fine una zona traffico limitato nella piazza che chiuderemo durante, forse, certi periodi stiamo decidendo bene la questione e quindi anche questo sarà un impulso per dare maggiore spazio ai cittadini che vivranno la piazza in un modo diverso. Non sembra da trovare pace la questione della cura del verde pubblico a Pavia, polemiche vanno avanti da anni si pensava di risolvere con il contratto ad ASM ma questo appalto ancora non è stato attivato. È ancora polemica tra l'opposizione cittadina ASM sulla gestione del verde in città A sollevare la questione nelle scorse ore è stato il consigliere comunale del Partito Democratico Giuliano Ruffinazzi che ha sottolineato come si stia procedendo con continui incarichi esterni. Sono necessari, secondo il PD, interventi meglio organizzati in diverse zone della città che richiedono lavori urgenti a ridosso del centro e non solo. Incarichi esterni che rappresentano una soluzione tampone in attesa dell'affidamento del servizio in house ad ASM di cui non si conosce però ancora la data d'inizio. Da circa un anno infatti si rimanda precisamente dal marzo del 2020. La prossima deadline infissata dall'amministrazione del Mezza Barba è per il 30 marzo nella speranza che non vi siano ulteriori rinvii. Ma il PD evidenzia preoccupazioni sulla gestione del servizio visto che a novembre in una nota del CDA di Via Donegani allegata al bilancio di previsione del Comune si ponevano alcune domande sulla gestione del verde cittadino a partire dalle aree interessate dall'intervento degli uomini di Via Donegani. Non solo all'interno del documento il consiglio d'amministrazione dell'ex municipalizzata chiedeva quali servizi su decoro e verde dovesse mettere in campo. Vi era insomma più di un interrogativo da chiarire in merito. Intanto come detto si stanno utilizzando incarichi esterni per tamponare l'emergenza e intervenire in diversi punti del centro cittadino. Ieri la notizia dell'allargamento del consiglio di amministrazione del consorzio di tutela vini dell'Oltrepo Pavese per comprendere al meglio le aziende di filiera. Oggi il presidente di Terre d'Oltrepo Andrea Giorgi rilancia ulteriormente e si augura che questo possa essere un avviatico anche per allargare la promozione per una migliore presentazione delle tante varietà di uve. L'aumento delle candidature da parte delle aziende di filiera che vogliono entrare a far parte del prossimo consiglio di amministrazione del consorzio vini è stato salutato con entusiasmo dai vertici della cantina cooperativa Terra d'Oltrepo. L'unità di intenti è possibile e percorribile ha spiegato il presidente Andrea Giorgi così il consorzio tornerà ad essere il luogo di confronto fra i viticoltori. Questo è il segnale che c'è voglia di ritorno voglia di partecipazione voglia di confronto voglia di fare tante cose nuove insieme. E mentre arriva la notizia di un accordo appena sottoscritto fra consorzio e strada dei vini un altro segnale di ritrovata unità salutato dalla cantina con entusiasmo Giorgi abbozza alcune linee sul futuro della viticoltura oltrepadana che dovrebbe riuscire finalmente a trasformare in una ricchezza quella che per molto tempo è stata considerata al contrario una iattura ovvero l'abbondanza di produzioni anche molto diverse tra loro frutto dell'estensione della complessità dei terreni delle altitudini e delle esposizioni difficilmente riscontrabili in altre zone d'Italia per dirla in altre parole non si vive soltanto di pino nero. Abbiamo sempre sotto lo valutato la qualità della nostra materia prima delle nostre uve questo ha bisogno di un nuovo slancio di una nuova promozione e programmazione per questo dobbiamo tornare a valorizzare e con più forza tutti quelli che sono le produzioni tipiche del nostro territorio non possiamo solo fermarci a pensare e a parlare di pino nero perché il nostro territorio è anche ad esempio pino grigio e perché quindi non promuovere in modo in modo più deciso il nostro pino grigio doc che può essere il grimaldello per i mercati inglesi e statunitense penso anche alla Barbera alle uve rosse con la Croatina che costituiscono parte di un patrimonio tradizionale dell'oltreppo pavese centenario sono tornati a protestare oggi pomeriggio davanti al palazzo Mezzavarbe i lavoratori della San Galli che rischiano di perdere il posto di lavoro tra due settimane quando scadrà l'appalto per il servizio di igiene urbana assieme a loro c'erano i sindacati che continuano a chiedere un intervento da parte del comune ASM Pavia ha infatti indetto un concorso pubblico per assumere 12 nuovi operatori spiegando che non esiste alcun automatismo e quindi un obbligo diretto di passaggio dei lavoratori della San Galli il servizio attualmente viene gestito dalla San Galli per conto di ASM ASM lo vuole gestire in autonomia e quindi chi sta facendo la raccolta in questo momento rischia il posto di lavoro per i sindacati andrebbe applicato il contratto di settore e salvati i posti di lavoro sulla vicenda è stato convocato un consiglio comunale per il prossimo 18 febbraio ma su questo punto politico vediamo servizio si terrà il prossimo 18 febbraio il consiglio comunale richiesto dalle opposizioni e dedicato all'avvertenza San Galli il caso ormai noto riguarda i lavoratori a rischio a causa dell'internalizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti da parte di ASM questo consiglio comunale verrà con ogni probabilità calendarizzato per il giorno 18 di questo mese quindi 18 febbraio è un consiglio comunale ulteriore rispetto a quello che è già stato convocato il mese scorso con le firme da parte dei consiglieri una modalità che inizia a diventare quasi abitudinaria a mio parere dovrebbe essere come dire un estrema razio però evidentemente i temi che vengono trattati sono di interesse delle opposizioni posso solo dire che il tema trattato appunto nel consiglio del 18 sarà relativo evidentemente come immagino già saprete ai lavoratori della San Galli che una volta scaduto il contratto con l'azienda medesima non verranno riassorbiti direttamente in ASM perché il contratto quello prevedeva quindi discuteremo di questo non è una competenza di diretta attribuzione del consiglio comunale vedremo come i gruppi consigliari decideranno di affrontare la questione certo è che l'appalto arrivava in eredità diciamo al 2021 esattamente una settimana fa c'è stata la sospensione del sindaco di Pinarolo Po Cinzia Gazzaniga per una vicenda giudiziaria che la vede coinvolta riguardante la sua attività professionale la maggioranza continua a difenderla e abbiamo intervistato il vice sindaco che ha preso si augura temporaneamente il suo posto siamo fiduciosi in una riabilitazione del sindaco nel frattempo lavoriamo per tenere i conti in ordine e dare servizi ai cittadini così Matteo Trespi di vice sindaco di Pinarolo Po che esattamente una settimana fa ha preso le redini del piccolo comune dopo che il sindaco Cinzia Gazzaniga è stata dichiarata sospesa dalla prefettura a seguito di una condanna a 11 mesi per aver distratto denaro nelle disponibilità di un anziano di cui era amministratrice di sostegno sosteniamo il sindaco la sua vicenda è personale e le decisioni che prenderà sono assolutamente personali questa sua vicenda non può cancellare quello che ha fatto negli ultimi praticamente dieci anni per il comune nell'impegno e il lavoro che ha fatto per il benessere dei cittadini e del comune sulla vicenda che ha visto coinvolta Gazzaniga il vice Trespidi non entra nel dettaglio anche perché gli stessi difensori del sindaco sospeso si riservano di leggere le motivazioni della sentenza che dovrebbero essere depositate entro il 3 marzo e poi eventualmente proporre ricorso quel che finora si sa è che la procura di Pavia che ha aperto un'indagine dopo un esposto di alcuni parenti dell'anziano di cui si occupava Gazzaniga le contestava di essersi appropriata di 145 mila euro ma la donna era stata assolta dalla maggior parte delle accuse per 4 assegni circolari partiti dal conto dell'anziano per un totale di 25 mila euro però secondo i giudici non erano state fornite risposte esaustive e al termine del processo con rito abbreviato è scattata la condanna per peculato a 11 mesi e 10 giorni di carcere con pena sospesa andremo avanti in questa strada con l'aiuto di tutti con l'impegno di tutti e sperando che comunque anche la vicenda del nostro sindaco possa risolversi positivamente e quindi magari anche un suo rientrego prima della fine della legislatura l'università di Pavia sarà una delle università europee chiamate a creare un nuovo master per l'intelligenza artificiale che è utilizzata in ambito sanitario in servizio l'università di Pavia ha ricevuto un finanziamento di circa 760 mila euro per lo sviluppo di un master dedicato all'uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario l'Ateneo ha vinto un bando della commissione europea chiamato Connecting Europe Facility Telecom che offre cofinanziamenti per stimolare e supportare la diffusione delle infrastrutture europee di servizi digitali in diversi settori il progetto pavese ha un duplice obiettivo da un lato istituire un programma di master specifico in ambito sanitario così da formare professionisti con le necessarie competenze digitali dall'altro sviluppare una rete di programmi simili a livello europeo per avviare progressivamente un master congiunto in gestione digitale della sanità degli 1,6 milioni di euro stanziati 760 mila spetteranno a Pavia che è capofila del progetto europeo affiancata ad altre prestigiosi università come la Goethe University di Francoforte la Leibniz di Hannover l'Università di Lubiane e la University del Regno Unito il progetto prevede la collaborazione di diversi docenti ed esperti del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Pavia con l'inizio dell'anno è stata autorizzata la ripresa di alcune attività sportive e una delle conseguenze è che domenica si svolgerà l'edizione 2021 della gara di Duat non la città di Pavia Un piccolo passo verso il ritorno alla normalità Pavia ospiterà una manifestazione sportiva dopo il lungo lockdown l'appuntamento è per domenica 14 febbraio alle 14 prenderà il via la decima edizione della Duatlon città di Pavia organizzata dalla società Raschiani Team Allora è la decima edizione del nostro Duatlon città di Pavia però è la prima e speriamo anche l'ultima in formato anti-covid purtroppo le normative ci costringono a far sì che non sia più una partenza come si definisce all'interno della federazione must start quindi tutti insieme ma sarà una partenza con gli atleti sgranati a cronometro con una partenza di 5 ragazzi o 5 ragazze alla volta distanziati in 10 secondi e anche durante tutta la gara devono mantenere il distanziamento sia per quanto riguarda la parte run e sia per quanto riguarda la parte bici tant'è che ci saranno i giudici che eventualmente sanzioneranno gli atleti qualora dovessero arrivare a contatto purtroppo con questa versione si perde un po' anche tutta però la socialità dello sport nelle prime fasi di gara e alla fine quindi ahimè dovremo accontentarci tutti insieme di gareggiare e basta ma quello che è la parte diciamo social della preparazione degli sfottò all'inizio di quello che può essere l'atleta che fa il pronostico eccetera e l'arrivo il complimentarsi tra atleti non sarà possibile una soddisfazione particolare anche per l'assessorato allo sport l'evento pur con tutte le limitazioni previste dall'emergenza sanitaria vedrà infatti la partecipazione di 250 atleti provenienti da tutta Italia su un tracciato di 50 chilometri di corsa e 20 in bicicletta sul percorso della tangenziale est finalmente riprendiamo a fare sport sul serio non soltanto sui social guardando i video realizzati anche dai campioni che ringraziamo in questo periodo ci hanno tenuto comunque compagnia adesso si fa sul serio si torna a gareggiare negli ambienti naturali e oggi presentiamo questa manifestazione che si svolgerà il 14 febbraio il duathlon è un evento che abbiamo fatto la prima edizione l'abbiamo fatta nel 2019 dopo la nostra elezione mi ricordo che ha avuto come teatro il palaravizza cosa che avverrà anche quest'anno la gara partirà da lì noi siamo contenti finalmente intanto di presentare questo evento e di poter presenziare finalmente di persona ad un evento sportivo che vede toglie dall'angoscia toglie dall'angoscia questi sportivi che per tanto tempo per un anno sostanzialmente l'anno scorso l'evento nel 2020 non si è potuta neanche fare questo è un evento invece che non vedevano loro di organizzare e di realizzare domenica 14 febbraio proprio per consentire lo svolgimento della gara di Duatrona saranno temporaneamente chiuse al traffico via Treves e via Marchesi dalle 12 alle 16 dalle 13 e 30 alle 16 saranno chiuse anche via Ortaglio ospedale via Cassani parte di via Vigentina in uscita da Pavia all'altezza della strada che conduce alla casa circondariale e parte della tangenziale est fino all'incrocio con strada Cascina-Morona con questo è tutto io vi ricordo l'appuntamento in prima serata in diretta con Cristina Cogli e le regole dello star bene arrivederci e buona serata Grazie a tutti